Roberto Dell'Amico, l'amministrazione comunale di Carrara oggi ha fornito la sua interpretazione in merito ai parcheggi blu all'interno del centro storico di Carrara. Qual è? Nasce da un'inchiesta delle Iene, ripresa anche da un consigliere qui del nostro comune, in maniera impropria a mio avviso, in quanto si è dimostrato, studiando e verificando le cose, una bufala. Sostanzialmente si deve fare attenzione e distinzione su quello che dice il Codice della Strada rispetto alla carreggiata. La carreggiata è la parte della strada destinata al passaggio veicolare e i nostri parcheggi, come quelli di tutta Italia e in tutti i centri storici, non sono all'interno della carreggiata ma bensì all'interno della strada. Siccome il Codice della Strada non fa distinzione tra parcheggio a pagamento o stallo bianco gratuito, se avessero ragione le Iene non si potrebbe parcheggiare nei centri storici in generale, perché non essendoci una distinzione tra blu e bianco sarebbero comunque tutti illegali. In realtà non è così, l'abbiamo verificato con attenzione e quindi io ritenevo utile non creare false aspettative. I nostri cittadini devono sapere le cose per evitare di incorrere in spese legali inutili. Questo non lo dico io ma lo dice anche la Corte di Cassazione che nel 2007 ha emanato una sentenza in merito, perché questa è una cosa che nasce dal 2004, è stata ripresa dall'Iene ultimamente diventata attualità e poi qualche d'uno ha voluto cavalcarla secondo me in maniera sbagliata.